cani di paglia è basato su un libro the siege of trenchers farm il libro è una schifezza che è una sola buona sequenza di azione e di avventura e cioè l'assedio stesso ora ti assumono per trarre un film da questo brutto libro ti danno un soggettista david goodman un attore dustin hoffman e ti dicono di fare un film ti danno una storia e tu fai del tuo meglio ecco tutto cos'è tutta questa merda questo parlare di onestà e dire che il film non è un'opera di grande intelligenza goodman e io abbiamo cercato di trarre qualcosa di valido da quel libro ci siamo riusciti e l'unica cosa che è rimasta è l'assedio guarda se mi avessero dato da fare guerra e pace invece di trenchers farm sono abbastanza sicuro che avrei fatto un film diverso se leggi quel maledetto libro morirai soffocato nel tuo vomito quel maledetto libro è questo l'assedio della fattoria di trencher che così nella tutto sommato recente unica traduzione italiana del 2010 prende il titolo dal più celebre film cane di paglia e la frase che c'è la frase scusate le frasi le opinioni che appena pronunciate sono come avrete capito dello stesso sam peckinpah e sono tratte dal libro che vi ho mostrato all'inizio del video cioè il la monografia pubblicata dal dalla storica e benemerita collana del castoro firmata da valerio caprara peraltro libro bellissimo insomma questo era peckinpah a proposito del romanzo di gordon williams di cui voglio un po parlare nella rubrica eresie peckinpah è molto ingeneroso secondo me in realtà è un bel libro un libro con delle criticità che sono tutte ideologiche e non stilistiche quando peckinpah dice che l'unica sequenza bella del libro è l'assedio per certi versi si riferisce al libro stesso perché metà del libro metà delle sue 190 pagine sono dedicate all'assedio quindi in realtà è un libro ricco di tensione e la cui lettura non è affatto noiosa ma naturalmente questo non basta a fare di un libro un grande libro e neanche io sono qui per ribaltare opinioni critiche sul romanzo di gordon williams non è un capolavoro della letteratura però un bel romanzo ecco sicuramente un bel romanzo e l'opinione di peckinpah secondo me è dovuta anche al massacro critico che ha incontrato il suo film film che io trovo meraviglioso uno dei suoi più belli forse non tra i suoi capolavori però comunque un grande grandissimo film è un film profondamente autoriale anche se avete visto come sembra volerne prendere le distanze perché il film venne attaccato ferocemente dalla critica di sinistra e anche i più illuminati come goffredo fofi che come dire è stato comunque un grande sostenitore di peckinpah però hanno attaccato questo film accusandolo di essere un film destrorso di un elogio della proprietà privata un elogio della giustizia sommaria un film maschilista e invece niente di tutto questo peckinpah è un anarchico probabilmente un anarchico da destra ma anche il maschilismo che gli viene che gli viene attribuito per questo film rivedendolo poi oggi io il film l'ho rivisto da poco così come ho da poco letto il romanzo è veramente una critica ingiusta e soprattutto spuntata una critica che viene messa a tacere dal film stesso il personaggio della donna di emi la moglie del matematico david summer interpretato da astin hoffman e il personaggio appunto dicevo interpretato da susan george è un personaggio ben più complesso di quanto certa critica abbia voluto far apparire e penso vabbè alla decana polenca e le cattiverie che da par suo ha detto sul film ma stiamo parlando di una persona che secondo me ha dimostrato leggendo i suoi pareri di non capire un emerito cazzo di cinema ora io però vorrei concentrarmi sul romanzo al quale forse invece le critiche le stesse critiche mosse a pekinpa sono ascrivibili perché secondo me pekinpa come tutti i grandi artisti ha fatto un film estremamente sfumato cioè non un'opera che può essere letta e risolta come un teorema un qualcosa che può così essere messo all'interno di una bandiera ideologica e poi vivere a senso unico tutt'altro pekinpa è un regista che pone tutta una serie di problemi e anche questo cane di paglia è un film enormemente stratificato il libro di gordon williams no forse il libro di gordon williams ha qualche come dire aberrazione ideologica ma andiamo con ordine prima di tutto pekinpa e qui è stato molto intelligente secondo me ha cambiato il in parte la professione del protagonista è sempre un intellettuale a parte che ha cambiato anche i nomi george magruder e sua moglie luise magruder nel film diventano david amy sammler comunque il protagonista del romanzo di gordon williams è un insegnante di letteratura diventerà un matematico nel film perché probabilmente la possibilità di vedere il lavoro di un insegnante di matematica cioè vedere delle formule scritte su una lavagna è più cinematografico che il pensiero di uno studioso di letteratura nel libro insomma abbiamo una situazione familiare diversa marito moglie una figlia che nel film scompare e poi soprattutto non c'è il tema dello stupro che peraltro con grande intelligenza pekinpa non metteva come causa scatenante del finale sanguinoso del film il l'assedio del titolo originale era dovuto al fatto che appunto dustin hoffman investiva per sbaglio quello che era il diciamo il il matto del villaggio Henry Niles interpretato da David Warner lo portava a casa e lo proteggeva dal gruppo di bifolchi che voleva fare giustizia sommaria la stessa cosa accade qua se nonché il personaggio di Henry Niles è da subito descritto come uno psicopatico laddove nel film è tutto sommato un matto innocuo salvo poi diventare un omicida ma nel libro è un assassino e uno stupratore di bambine che scappa da un manicomio e e quindi diciamo la colpa è già in qualche modo inscritta in questo personaggio e crea un'ulteriore tensione perché nel momento in cui George McGruder il nostro protagonista lo protegge all'interno delle mura di casa sua all'interno di quelle mura c'è anche sua figlia e quindi c'è un pericolo dall'esterno cioè gli abitanti del villaggio che vogliono farsi giustizia da soli e un pericolo all'interno che è la stessa persona che George protegge e questo è un bel come dire dilemma morale che attraversa tutta la lunghissima dilatata scena dell'assedio è un libro che veramente sai come si dice il page turner no e tiene veramente con il fiato sospeso la cosa che mi ha colpito molto e qui torno a quel discorso così schiettamente ideologico che dicevo all'inizio è il fatto che Gordon Williams descrive in modo molto più manichio di quanto faceva Peckinpah la differenza tra l'intellettuale e diciamo così il proletario il sottoproletario come proprio un come dire un uomo che ha la capacità di usare sicuramente l'intelletto ma anche l'incapacità di reagire alla forza bruta e di questa cosa gliene fa un una colpa la moglie il l'adulterio che al centro del film di Peckinpah qui tutto sommato già stato consumato in america e quando i coniusi si trasferiscono in inghilterra è già come dire un una sorta di vulnus nel loro rapporto che però non scatena niente direttamente a livello di trama interessante anche il fatto che Gordon Williams è uno scrittore britannico e in questo in questo romanzo non fa altro che raccontare la l'inghilterra rurale come un luogo selvaggio dove albergano i più bassi istinti e l'america invece come l'america e George McGruder lo yankee come diciamo così la terra dell'intelletto la terra della 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 democrazia che come dire rifiuta ogni tipo di violenza e questo è curioso cioè mi viene in mente uno scrittore come Fleming che così sembra trovare barbarie in tutto ciò che non è britannico e qui invece Gordon Williams ci racconta il viaggio di un americano in inghilterra come il viaggio sostanzialmente di un uomo civilizzato all'interno di una giungla è una cosa quanto meno bizzarra quanto meno bizzarra e ragione anche della ruggine della tensione coniugale perché la moglie sostanzialmente riprovera rimprovera al marito di non sapersi difendere di non saper difendere se stesso e di non saper difendere il nucleo familiare e qui emerge diciamo quel darwinismo che è anche di Peckinpah a Peckinpah viene ferocemente contestato ma in realtà in Peckinpah è molto più problematico e sfumato mi faceva piacere dire due parole in contrapposizione tra film e libro un po come ho fatto in un altro video di questa di questa rubrica eresia a proposito di Patricia Highsmith, Wim Wenders e l'amico americano perché comunque trovo interessante trovo interessante vedere come due immaginazioni confliggono quella di Gordon Williams e quella di Sam Peckinpah ripeto il film di Peckinpah per me è uno dei suoi più belli è anche uno di quelli anche dei più sinceri tutto sommato e il fatto che proprio lui sia il primo a rifiutarlo in modo anche così duro è forse perché quel film tocca dei nervi scoperti della sua poetica la violenza che mette in scena è una violenza molto sua tutto sommato ma prende spunto da un libro che non è quell'orrore che lo stesso Peckinpah dice è un romanzo contestabilissimo ma ripeto assolutamente degno di lettura tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata grazie a tutti